La Presidente von der Leyen ha dimostrato di avere senso della storia. Oggi stiamo vivendo un cambiamento epocale in Europa. Dobbiamo, come generazione di figli rifondatori, assumerci le nostre responsabilità e credo che la visione che ha condiviso questa mattina in aula la Presidente sia quella giusta. Però bisogna avere molto più coraggio nell'impegnarsi nella riforma dell'Unione Europea. Noi dobbiamo allargare, dobbiamo riunificare il continente. Il posto dell'Ucraina e del Balcana occidentale è certamente nell'Unione. Allo stesso tempo dobbiamo con coraggio riformare in maniera profonda le istruzioni europee, liberarci del veto, rendere l'Unione Europea più efficiente. Sono due cose che vanno fatte in parallelo. Su questo ho sentito qualche esitazione della Presidente. Noi spingeremo per andare in questa direzione.